Ciao a tutti ragazzi di TecnoAndroid e benvenuti alla nostra recensione dell'HTC Desire 510 uno smartphone prodotto da HTC e dedicato principalmente ad una fascia media del mercato il dispositivo naturalmente come abbiamo potuto appena dire appartiene alla serie HTC Desire quindi da un punto di vista puramente estetico questi può essere visto come uno dei tanti smartphone che HTC ha lanciato sul mercato nel corso degli anni e dei mesi principalmente quindi noi vediamo un dispositivo con un display non troppo ampio da 4.7 pollici e dimensioni effettivamente nella media abbiamo 139.9 mm x 69.8 x 10 mm di spessore ed un peso complessivo batteria inclusa con cover posteriore rimovibile di 158 grammi sulla parte anteriore del terminale troviamo i sensori di prossimità e luminosità con fotocamera anteriore e altoparlante per le chiamate oltre che il microfono per le chiamate con scritto HTC e vedete nessun tasto fisico posteriormente invece abbiamo una cover in plastica lucida cover completamente rimovibile con altoparlante per la riproduzione musicale HTC marchio quindi e fotogramma posteriore purtroppo senza flash LED la cover è come ho detto rimovibile e completamente in plastica plastica vedete lucida chi porta quindi a molte ditate sul terminale stesso gli unici tasti sono stati posizionati sui bordi troviamo sul bordo destro volume superiormente jack da 3.5 mm con accensione spegnimento sull'altro lato nulla e inferiormente micro usb per la ricarica allora esteticamente vediamo che il terminale può essere tranquillamente utilizzato con una mano allo stesso modo però il peso è abbastanza contenuto però questo va a discapito della resistenza del terminale in quanto essenzialmente la HTC Desire 510 non è poi così resistente in quanto è interamente realizzato in plastica parlando di caratteristiche del terminale troviamo innanzitutto un display da 4.7 pollici con diagonale quindi di 119,4 mm risoluzione FW VGA 480 x 854 pixel 16 noni 16 milioni di colori e 209 ppi allora la qualità del display è abbastanza scadente nel senso che comunque a giorno d'oggi di smartphone a poco più di 100 euro possiamo trovare ottimi schermi con qualità effettivamente superiori a quella presente in questo Desire 510 c'è da dire che la reattività del touchscreen e tutto quanto di collegato adesso è più che ottima nel senso che non abbiamo riscontato problemi nel fornire input al nostro display e al nostro smartphone resta che comunque la qualità del colore e dei dettagli è abbastanza scarsa e scadente tale per cui quindi più che di fascia media il display è quasi di fascia bassa in compenso abbiamo un buon processore in particolare abbiamo il solito processore Qualcomm Snapdragon 410 con indicazione codice MSM8916 se vi interessava che su Antutu riesce ad raggiungere un punteggio che effettivamente è nella media anche se poi non è poi così elevato quanto ci saremmo potuti effettivamente aspettare vedete 21.858 punti è un buon punteggio che naturalmente individua proprio il design 510 nella fascia di mercato cui HTC ha effettivamente pensato e mostrandovi ad esempio le caratteristiche tecniche vi faccio vedere che la GPU è un Adreno 306 ed in particolare abbiamo un processore Snapdragon 410 quad core con frequenza di clock a 1.2 GHz ed in particolare è un processore a 64 bit il problema qual è? il problema è che come al solito noi abbiamo installato una versione di Android non proprio aggiornatissima ovvero la 4.4.3 ciò sta a significare che essenzialmente il sistema non riconosce il nostro smartphone il nostro processore come a 64 bit tale per cui quindi lo considera e lo sfrutta come se fosse a 32 bit ciò sta a significare che noi abbiamo tra le mani un buon processore a 64 bit ma dato che non sia l'ultima versione di Android questi viene riconosciuto come se fosse a 32 bit e quindi le funzionalità e l'utilizzo in sé è essenzialmente al pari di uno smartphone con un quad core a 32 bit la speranza è che un giorno si veda l'aggiornamento ad Android 5.0 e che quindi si possa utilizzare lo smartphone a 64 bit vi faccio vedere rapidamente anche la prova su pista diciamo tra virgolette con il nostro Arcatici Desire 510 in particolare qui vediamo come il dispositivo esegue un titolo molto performante quale è Asphalt 8 un titolo che vediamo solitamente in tutte le nostre recensioni abbiamo visto che il caricamento è stato più che buono quindi rapido si ha piccoli lag e piccoli scatti vedete nell'esecuzione quindi l'esecuzione non è poi così fluida quanto effettivamente ci saremmo aspettati in quanto vedete che anche ruotando l'immagine l'accelerometro funziona bene ha lo stesso il giroscopio però si ha piccoli lag che non rendono particolarmente fluida l'esecuzione del gioco per il resto vedete che si può tranquillamente utilizzare il nostro Arcatici Desire 510 anche per giocare con titoli che richiedono una grande potenza di elaborazione oltre che una potenza grafica molto interessante peccato che il display sia da 4.7 pollici e non abbia una grande risoluzione quindi da un punto di vista della qualità visiva non è poi elevatissimo però la fluidità vedete che è abbastanza soddisfacente nel frattempo vi faccio sentire anche l'audio per poter confrontare l'altoparlante l'altoparlante è stato posizionato posteriormente e anche anteriormente adesso qua purtroppo ho schiacciato il pulsante vi riavvia rapidamente Asphalt e sentite che la qualità è più che ottima non ha distorsione del suono non ha vibrazione alla parte anteriore e posteriore nonostante sia realizzato interamente in plastica quindi la qualità è davvero più che ottima parlando naturalmente dell'altoparlante sentite che anche coprendo il suono esce un po' lo stesso però per il resto è davvero un ottimo altoparlante ottima scelta da parte di HTC una piccola notazione a differenza di altri smartphone della serie HTC come poteva essere il Desire 816 o il Desire I nel Desire 510 HTC non ha implementato il doppio altoparlante anteriore quindi non avremo il Dolby Surround e allo stesso tempo non avremo quell'elevatissima qualità audio che ha contraddistinto gli altri smartphone per il resto comunque abbiamo un ottimo dispositivo che può essere tranquillamente utilizzato per giocare senza particolari problemi parlando invece del comparto fotografico noi abbiamo una fotocamera posteriore da 5 megapixel in grado di registrare video in full HD e una fotocamera anteriore da 0.3 megapixel dunque la qualità della fotocamera posteriore è buona vedete che non ha trascinamento ruotando la fotocamera e allo stesso tempo registra ottimi video e effettua scatti ad elevata qualità vedete che ad esempio in condizioni di grande luminosità noi siamo riusciti ad effettuare buoni scatti naturalmente non al pari di un 13 megapixel o comunque di altri smartphone però comunque abbiamo uno scatto abbastanza soddisfacente l'aspetto negativo più grande di questo smartphone è naturalmente l'assenza di un flash led ciò sta a significare che vedete in condizioni normali quindi all'interno di un'abitazione lo scatto è buono anche se però con la presenza di un flash led noi avremmo e saremmo riusciti ad ottenere scatti decisamente più interessanti e di qualità decisamente superiore rispetto al normale per il resto però comunque non pensate di utilizzarlo come vostra fotocamera principale però rimarrete abbastanza soddisfatti per avere una visione più di insieme di tutti gli scatti di questo HTC Desire 510 vi rimando alla nostra recensione testuale sul sito tecnandroid.it recensione su cui caricheremo tutti i nostri test in alta definizione la qualità degli scatti non sarà eccessa però vi faccio vedere che ad esempio noi possiamo avere al massimo una risoluzione di 2560x1440 pixel nelle immagini mentre nei video dato che potreste essere un po' scettici vedete qualità video massima full HD 1920x1080 pixel quindi buona qualità anche se purtroppo manca il flash led cosa che ormai al giorno d'oggi è quasi essenziale ed la fotocamera anteriore è da 0.3 megapixel quindi davvero davvero molto ma molto scadente poi tornando noi abbiamo in particolare un sistema operativo con android vi faccio vedere direttamente da qui 4.4.3 con personalizzazione software HTC Sense 6.0 quindi effettivamente l'ultima personalizzazione disponibile sul mercato abbiamo in particolare vedete centro notifiche e menu di avviamento rapido molto carino con perfetto stile HTC qui potete accedere a tutte le informazioni del caso il dialer è esattamente identico quanto visto nei vari HTC infatti vedete anche centro messaggi con tastiere e quant'altro è esattamente identico il browser è semplice è semplice da utilizzare naturalmente diverso da quello stock android peccato sempre che il display sia effettivamente abbastanza piccolo ma per il resto è perfettamente utilizzabile anche per navigare di applicazioni preinstallate non ne troviamo moltissime abbiamo tutte le Google Apps quindi Chrome, Gmail, Google Plus, Maps tutti i Google Play tutti i Play Store YouTube Drive, Hangout e così via di applicazioni invece proprietari di HTC abbiamo essenzialmente Zoe che è l'app per modificare e caricare immagini Auto che è la modalità che ci è semplificata che ci permette di utilizzare di avere diciamo sul display solo e esclusivamente alcuni tasti modalità bambino se volete prestare o regalare questo smartphone a dei bambini potete porre delle limitazioni poi di altre app di HTC abbiamo Power to Give che è la serie di progetti di HTC a cui potete contribuire o HTC.View che è l'applicazione che ci permette di personalizzare la lock screen in relazione all'utilizzo di una custodia con i magneti di altre app invece abbiamo interessanti strumenti vedete che non abbiamo niente di particolare oppure in produttività abbiamo naturalmente Polaris Office 5 che è la suite per creare documenti e tutte le app di applicazioni multimediali del caso quindi vedete che come personalizzazione software ci siamo molto molto insistente e comunque tutto quanto è necessario per poter utilizzare immediatamente il terminale infatti abbiamo una memoria interna di 8 GB naturalmente è possibile espanderla tramite l'installazione di una micro SD esterna 8 GB che secondo quanto noi abbiamo adesso vedete che abbiamo 1 GB di memoria disponibile ed in particolare di questo 1 GB noi abbiamo installato queste tre applicazioni Whatsapp Antutu e Asphalt ed in particolare abbiamo effettuato una serie di scatti ciò sta a significare che effettivamente la memoria a disposizione dell'utente finale è molto poca quindi se acquistate questo HTC Desire 510 fate i conti che dovrete necessariamente installare una micro SD esterna altrimenti sarà praticamente impossibile utilizzarlo proseguendo invece nell'analisi noi possiamo notare che il dispositivo presenta una batteria esterna completamente removibile da 2100 mAh che secondo il nostro utilizzo quindi Whatsapp BlinkFeed dopo vi faccio vedere anche BlinkFeed Internet Play Store e Antutu in cui abbiamo principalmente l'utilizzo del sistema Android quindi senza particolare attività di gioco noi abbiamo il dispositivo acceso da circa due giorni ciò sta a significare che essenzialmente se utilizzate intensamente il terminale allora durerà circa un giorno un giorno e mezzo viceversa se lo utilizzate come lo utilizziamo noi quindi messaggiare intensamente con Whatsapp connessione dati sempre attiva navigazione in rete intensa allora avrete una durata complessiva di circa due giorni quindi ricaricandolo perfettamente alla mattina fino alla sera del giorno dopo potrete utilizzarlo senza particolari problemi viceversa naturalmente si avrà una durata inferiore altre caratteristiche quindi come dicevo presenta HTC BlinkFeed che è l'aggregatore di news di HTC che si può raggiungere semplicemente con uno swipe verso sinistra guardando rapidamente il menu impostazioni vediamo inoltre che il Desire 510 presenta connettività wifi e bluetooth si può utilizzare anche l'HTC mini plus che è il piccolo telecomando di HTC quindi assente navigazione in 4G e e volevo dire NFC poi vedete che non abbiamo altre particolari impostazioni questa è la solita impostazione per trasferire i contatti e dati da un altro smartphone caratteristica di tutti i smartphone HTC ma vedete che è di altro particolarmente interessante oltre che la stampa Cloud Cloud Print di HTC per stampare via wireless con stampanti HTC dicevo non abbiamo altro di particolarmente da segnalare detto questo quindi quali sono gli aspetti positivi di questo smartphone sicuramente HTC Sense quindi personalizzazione software di HTC molto interessante allo stesso tempo abbiamo un buon processore a 64 bit che purtroppo però finché non vedrà l'aggiornamento ad Android 5.0 rimarrà praticamente inutilizzo a 32 bit ed l'ultimo aspetto positivo è un'estetica in perfetto stile HTC quindi molto carina dall'altro abbiamo aspetti negativi una fotocamera senza flash led a giorno d'oggi credo non si possa quasi vedere uno smartphone realizzato interamente in plastica e allo stesso tempo una qualità complessiva che se paragonata agli altri smartphone del mercato della stessa fascia è effettivamente un poco inferiore in ultima analisi vi voglio ricordare che è assente il led di notifica quindi non potete visualizzare diciamo notifiche o comunque essere avvisati senza avviare il display allo stesso modo il tasto di accensione spegnimento è posto sulla parte superiore del terminale e devo dire che è abbastanza scomodo scomodo perché forse dal video non si riesce a vedere ma vedete che non emerge diciamo particolarmente dalla scocca quindi vedete che fin poco troppo spesso è troppo poco spesso e quindi potreste avere delle difficoltà a volte a schiacciarlo o comunque vi potrebbe capitare come era capitato a me prima di prenderlo in mano e schiacciarlo involontariamente quindi un aspetto da tenere in considerazione e a mio dire decisamente scomodo per qualsiasi altra informazione non mi resta che rimandarvi alla nostra recensione testuale su tecnandroid.it mentre se avete dubbi o quant'altro lasciate un commento al video e cercheremo di rispondervi il prima possibile di rispondervi